Bene bene, torta Kinder Paradiso a modo mio! Sofficissima e la crema è proprio come quella delle originali. Monta le uova e lo zucchero, fino ad ottenere un composto bello spumoso. Aggiungi poi l'olio a filo, ed io ho utilizzato questo e non il burro, quindi risulta anche più leggera, e poi unisci anche il latte. Questo renderà l'impasto leggermente più liquido, ma molto più soffice. Aggiungi farina e poi fecola setacciata. Meglio in due step. Qui aggiungo la fecola, e poi monto ancora. In ultimo un pochino di lievito. Si aggiunge sempre alla fine, perché l'impasto, mentre lo si lavora, si riscalda, e quindi potrebbe danneggiarlo. Invece aggiungendolo alla fine, l'impasto sarà perfetto. Mettilo in teglia ed in forno. Adesso prepariamo la crema. Monta la panna ed aggiungi poco per volta il latte condensato. Monta tutto, copri con pellicola e metti in frigo. Per una notte va bene. Una volta che la torta sarà raffreddata completamente, tagliale in due. Se si forma la cupoletta in superficie, puoi o toglierla e quindi pareggiare la torta, oppure lasciarla così che va bene lo stesso. Io l'ho tolta. Farcisci con tanta crema. Aggiungi tantissimo zucchero a velo. E per farla diventare fresca e compatta, lasciala in frigo un'ora oppure tutta la notte. Et voilà! Kinder Paradiso pronta!